Si sa che i consigli comunali di Forio sono un po' più accesi rispetto a quelli degli altri comuni però alla fine sono emerse delle cose importanti come è normale che sia una maggioranza molto molto compatta ma soprattutto una maggioranza che ha il coraggio di mettere in campo anche azioni che possono cambiare il volto del nostro paese una su tutte c'era la delibera con la quale abbiamo dato il via all'acquisizione di un terreno in questo terreno si potranno realizzare una serie di cose tra cui una scuola e soprattutto il nostro sogno quello di realizzare una piscina coperta a panza Per aumentare anche i servizi a disposizione della cittadinanza? Soprattutto per aumentare i servizi a disposizione della cittadinanza ma poi stiamo parlando di opere delle quali si parlava da tanti anni in tutti gli impegni elettorali dei sindaci passati c'era la realizzazione della piscina a panza noi abbiamo messo la prima pietra, abbiamo acquistato il terreno e stiamo procedendo speditamente anche su questo grazie a tutti grazie a tutti